Alessia Pilotti, centrale difensiva del Montesilvano, oggi è stata una giornata, così così, tre punti utili per la classifica, però prestazione da rivedere forse. Sì, assolutamente, l'importante è che abbiamo preso tre punti, ma diciamo che a livello di gioco non siamo state molto brave, ma soprattutto anche nervose. Non so dirti il vero motivo, adesso ne ragioneremo in settimana tutte insieme, però l'importante sono i tre punti che ci fanno andare a riposo con il bottino pieno fino ad ora. Appunto, di cosi rizzato, su cosa pensi di prima lavorare in settimana per migliorare? Cosa non ha funzionato oggi? Oggi c'è stato molto nervosismo tra di noi nel gioco, non abbiamo girato come dovevamo, non so. Sinceramente non so dirti bene anche durante la partita, non siamo riusciti a cambiare la rotta, penso che settimana ne parleremo, ci faremo tutti tutto per rientrare, anche perché la prossima partita sarà una partita molto dura nel campo del Portos, e quindi dobbiamo rientrare al massimo come abbiamo fatto la partita scorsa e non come quella di oggi, perché se giochiamo come oggi non so se andrà a finire bene anche la prossima. Ok, grazie mille. Passiamo a Diana Bellucci. Rai il saltello, ma non posso, quindi ecco tu. Con le stampelle, c'è da poco operata, le tue condizioni, come stai? Allora, guarda, bene, è andata tutta bene, sto benissimo, anzi siamo con i terapisti e l'ortopedico anche un pochino sorpresi per come sto, quindi sono felice, sono serena, sono molto molto serena. Quando pensi di rientrare? Questa è una bellissima domanda, spero il prima possibile, però mi sembra un pochino azzardato fare pronostici in questo senso. Quando starò bene? Quindi speriamo presto, ma neanche troppo. Grazie, grazie a te. Un bacchalopo. Grazie. Grazie.